Eccolo qua. Buonasera e benvenuto, Rocco Cosentino è il mio ospite di questa sera. Ciao Paolo, ciao Paolo, grazie a te di avermi invitato e un saluto a tutti i nostri spettatori, possiamo chiamarle così, sì. E speriamo che diventino sempre di più, ma sì, anche perché i canali sul web devo dire che sono in crescita, qualcosa che mi fa anche piacere perché vuol dire che le persone vanno anche alla ricerca di novità, di contenuti, che magari il cosiddetto mainstream non sempre garantisce, purtroppo, mi dispiace anche doverlo constatare. Allora, prima di parlare del tuo libro, tra l'altro, tra parentesi, parleremo del tuo secondo libro, perché ce n'è anche uno precedente, ma faremo anche un breve cenno. Io però direi di iniziare, doveroso in questo caso, con una, diciamo, presentazione dell'autore. Quindi tu hai un curriculum bello corposo, direi, perché oltre che scrittore, oggi parleremo chiaramente prevalentemente di questo, però ricordiamo anche che sei regista, produttore e hai avuto, so, tante, hai fatto tante cose interessanti nel campo. Raccontaci tu qua. Beh, sai, io appartengo al secolo scorso, non sono di questo secolo, quindi non ho, dico sempre, né 40, né 50, né 60, ma sono 64 anni e inizio, diciamo così, quasi casualmente, nel senso che mi sono avvicinato al teatro, perché chi ti parla è un ex balbuziente e quindi il mio disequilibrio, lo chiamo così perché mi occupo anche, questo è il mio lato oscuro, mi occupo anche di medicina olistica, era legato a qualcosa che non sapevo e quindi questo mio approccio col gentil sesso, piuttosto che parlare pubblicamente o a qualcuno mi creava delle grosse problematiche. Io amo molto la lingua italiana, a scuola ero bravino in italiano, quindi, però questa comunicazione verbale mi creava grossi problemi. Posso chiederti una cosa, questa tua, premesso una cosa, non lo sapevo, lo sto prendendo adesso insieme a chi ci segue, questa tua, diciamo, problema che hai avuto in passato mi ha fatto raramente un film meraviglioso, il discorso del re, credo che l'abbiamo visto, dove c'è un superbo Colin Firth e anche, purtroppo non ricordo che lo scuse il nome dell'altro attore, che però è altrettanto... Mi sfugge anche a me, ma è un film, secondo me, da Oscar per tutti, l'ho visto, credo... Assolutamente, i due protagonisti fanno a gara per stabilire chi dei due è più bravo, davvero un film meraviglioso che consiglio a tutti, d'altro è anche una storia vera. Assolutamente sì, assolutamente sì. E mi dicono che c'è un passaggio nella chiacchierata, diamo per scontato che chi ci segue l'abbiamo visto, chi non l'ha visto lo deve assolutamente vedere. Lo invitiamo a guardarlo. Assolutamente sì, perché merita, io l'ho visto più di una volta, anche perché ce l'ho in mente. Mi ricordo a un certo punto l'analista, il mitico Lion & Logo, che dice che nessuno nasce così. Ecco, in te questo, diciamo, questo problema è nato con te o è arrivato dopo? No, è assolutamente arrivato dopo per mille motivazioni, avendo poi, come ti dicevo, approcciato la medicina olistica, sono anche nel mio occulto, sono operatore Shatsu, ma tecnicamente a oggi riesco ad andare indietro nel tempo e a ricordare specificatamente alcuni aspetti della mia esistenza. In questo caso, no, è arrivato senza dubbio unitamente a un sentimento, a una mia emotività, a un mio sentire molto forte, no? In quelli che sono le sensazioni, i sentimenti. Io cerco di provare al meglio e al massimo, no? Ogni cosa, chiaramente nei limiti di quello che può essere, no? La vita normale, ma anche questo mio approccio con il fuori, che era legato appunto a una difficoltà nell'esprimere, no? Quindi un aver probabilmente represso per mille motivi, che non ti sto ad elencare, una parte riservati, una parte sono legati alla famiglia, no? Alla vita sociale che all'epoca si parla, siamo, io avevo, il mio ricordo arriva di questo mio, questa mia balbutia dai 10-11 anni fino ai 16-17 anni. E' proprio appunto questo, un insieme, no? Quindi un'amalgama di una mia composizione, no? Proprio energetica, mia personale, oltre al fatto appunto di una repressione dovuta a un tipo di educazione, un rapporto genitoriale e quindi poi quello che era il periodo storico anche, no? Quindi la difficoltà di esprimere dei concetti, la voglia di fare mille cose. Ricordiamoci, io nel 68 ho 10 anni, no? Ma sento fortemente, dico una sciocchezza, ma è vera, ma sento fortemente questo momento storico che non mi appartiene dal punto di vista sessantottesco, come si usa dire, no? Perché ero troppo giovane. Ma certamente sento molto questo. Io ricordo che poi divento adulto, durante, io abito a Milano in quel periodo, con le Brigate Rosse, con tutto il periodo storico molto forte, arrestano Curcio dietro casa mia, per capire. La mattina ci siamo svegliati, c'erano un miliardo di agenti davanti a ogni ingresso di casa. Ecco, per dirti, io ho aperto la valigetta, che andavo in quel periodo, andavo a scuole superiori, credo 5.000 volte, fermati ogni volta dai poliziotti, al che all'epoca avevo la barba, come adesso, ma per un periodo poi non l'ho fatto, facendo l'attore, non l'avevo. Ho dovuto tagliarla, perché dico, basta, perché non era possibile. Ogni volta che mi incrociavano, ed è stato un periodo piuttosto forte. Mi sono, come dicevo, avvicinato. Sì, sì, piuttosto pericoloso. Mi sono trovato in mezzo a una sparatoria di mafia. C'è un tante, Milano, l'epoca era la famosa Milano Violenta, no? Non so se ti ricordi quei film dell'epoca, no? Napoli Violenta, Milano Risponde, Palermo Milano, e tutte queste cose. Quindi ho sentito molto questo aspetto. E in più comincio... Dimmi, dimmi. No, no, è interessante per la vita, anche perché ripercorre alcuni anni di storia che sono stati anche molto travagliati. Sono in piazza quando muore Franceschi. Adesso mi sfugge, ma mi verrà in mente un ragazzo che abitava nelle mie zone. No, Anelli, come si chiamava? Rutelli. No, Rutelli. No, mi sfugge. Ma è famoso, apparteneva all'emisfero nero, diciamo, dell'epoca. Piazza San Babi, le compagnie, viene massacrato vicino a casa mia. Io, un carissimo amico, si chiamava, madonna, un Marcantonio alto 1,90 m. Una mattina andiamo a scuola, io andavo in Via Noto a Milano. Via Noto, per chi non conosce Milano, da casa mia erano due ore di tram, per capire. Era in fondo via Ripamonti, dopodiché diventava opera un'altra città. Una mattina siamo sul tram, guardiamo il giornale e questo qui era stato bastonato a morte in piazza. Ecco, questo era l'aria che si respirava a Milano. Movimento studentesco, Mario Capanna. Senza voler fare un escursus storico-sociale. Ecco, ma io cresco in quel periodo. Fortemente curioso di tutti quelli che erano appunto il sentire. Non riuscivo a esprimere queste cose. Appunto l'emisfero femminile per me era una sorta di tabù. Io diventavo viola, solo che una ragazza alzava gli occhi su di me. Quindi tutte queste cose le sentivo fortemente. Cioè era un problema che... Una forte questione psicologica, so. Sì, fortemente, no. Quindi un po' per volta, beh, io leggo il primo giornale a 17 anni per capire. Cioè, ecco, per dirti qual era anche un po' anche in casa. Non è che i miei genitori poveri hanno vissuto una vita bella travagliata, no? Arrivando dalla guerra. Quindi i miei sono del 35, mio papà, la mia povera mamma è mancata un po' di anni fa, del 36. Quindi mio papà ancora aveva, ma ha fatto una vita, ti assicuro, no? Facendo il fotografo. Non solo vivendo la festa della guerra. Eh sì, io arrivo da una famiglia di fotografi. Mio nonno, il nonno materno, era il fotografo dello sbarco degli americani a Gela, per capire, no? Quindi arrivo da un'esperienza... Io sono cresciuto con i rullini appesi in casa ad asciugare, per capire, no? Quindi, ecco, questa cosa però grazie a Dio, magicamente, intorno appunto a scuola, incomincio a, come posso dire, no? Nonostante la difficoltà, ma a sciogliermi un po', perché comincio il rapporto con gli altri, con gli amici, con le persone della mia età, con i professori. Ecco, trovo nella scrittura una prima, una prima, un primo, come posso dire, aiuto, no? Perché la scrittura è lettura non detta, no? Cioè, è il parlato non detto, quindi tu scrivi ciò che vorresti dire. Io sono rimasto un po' famoso, figurate, passavi questa presunzione. Il mio esame di maturità, perché ho scritto undici pagine di protocollo del tema, no? Alla maturità. E quando feci il portai, il portai ovviamente come materia, come se come materia, all'epoca si usavano due materie, no? Una sceglievi, una te la dava. E io la dava. Sceglievi, ovviamente, era italiano. E a un certo punto cominciai a parlare, la professoressa di italiano, peraltro membro esterno, che insegnava al classico, io ero solo un perito meccanico. Dopo un'ora e un quarto, mi ricordo che fosse dopo un'ora e un quarto, mi disse, posso interromperla un attimo? Perché mi chiese, di cosa vuol parlare? Mi dica lei. E mi disse, ma, Manzoni. E io cominciai a parlare, e io poi sono, posso dire una parola un po' forse forte, un po' paraculo, come dicono a Roma, e cominciai da Manzoni, da Manzoni, da Piano Piano, circunnavigai l'intero mondo letteraria, quindi andai a pescare, poi Pirandello, non mi ricordo neanche come fessi, perché avevo fatto anche in più una piccola... Mi hai fatto ricordare tante belle cose della maturità. Eh, esatto. Ma tu devi capire, tu devi dire la cosa, che a un certo punto, dopo un'ora e un quarto, si avvicinò il presidente della commissione, sempre esterno, no? Che aveva ascoltato questa chiacchierata, no? Dice, ma lei, non è quello che ha... Mi ricordo ancora, mi gocciolava, io non sudo tantissimo, mi gocciolava la scella sinistra, con la giacca e cravata, gli unici due che si misero la giacca e cravata, all'epoca non si usava, ma fu giusto così, disse, ma lei non è quello che ha fatto il tema di undici pagine, che peraltro erano 22, che come tu sai, io alla quarta pagina che chiesi della brutta, disse, ma scusi, ma cosa sta facendo lei con questi fogli? E dico, sto scrivendo, perché all'epoca si usava, sai... Abbiamo, sì, esatto. A metà, no? Non era tutto. Sì, 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 no, ma l'ho fatto anch'io così, mi ricordo, quindi come si scriveva anche lo suo foglio protocollo, quindi me lo ricordo bene. Dunque, diciamo che abbiamo capito come nasce la passione per la scrittura, pensa poi, vedi, anche adesso se abbiamo fatto un bel volo anche attraverso la storia... Sì, sì, esatto, tu fai perché... Attraverso anche l'esame di maturità, però non vorrei neanche sinceramente togliere tempo al proposito di scrittura, al libro, ai libri, ricordando però, come dicevamo prima, che tu sei stato anche regista, produttore, lavorato per il cinema, lavorato per il teatro... Esatto, io con il teatro, con la scuola di teatro, con la scuola di teatro risolvo il mio problema di balbuzie completamente, perché lì poi esplode tutta una storia, ho vomitato tutto ciò che era da vomitare, passami il termine un po' forte, poi ho buttato fuori tutto e ho preso possesso di un'arma che era appunto la parola e al quale tenevo moltissimo, comincio in teatro, faccio tanti anni in teatro, un po' di cinema, un po' di quant'altro, e quindi un po' per volta l'età passa e quindi le cose si muovono, diventano altre e mi avvicino alla scrittura. Più di dieci anni fa, undici anni fa, mi mandano un messaggio a casa, una signora, che voleva essere provinata, passami il termine, si usa dire così, per un cortometraggio che lo stavo allestendo. Ci sentiamo per il telefono e diceva, guardi, in realtà non è questo, io devo vederla. A questo punto, sai, visto come l'ambiente, dico, guardi, ci vediamo in un bar in centro, forse è meglio, perché sai, non sai mai chi ti... non la conoscevo, eh. Viva Dio del mio territorio, quindi non è un problema. Invece è una carissima persona, una bravissima persona, siamo rimasti amici, e mi esprime, mi esprime, scusami, la sua volontà di mettere nero su bianco delle sensazioni fortissime, vissute in parte in prima persona, in parte poi ho dovuto fare delle modifiche, legate alla fecondazione assistita, ma soprattutto legate alla sindrome di Klinefelster, che una sindrome maschile non è una malattia, perché sai che non è una patologia, è una cosa un po' strana, la medicina si muove in questo senso e la sanità, viene riconosciuta come sindrome e quindi non è una patologia vera e propria, che è una patologia maschile dove l'uomo nasce così, non c'è Klinefelter, lo studioso tedesco che l'ha scoperta, dove ci sono uno, due, tre o quattro al secondo cromosomi femminili in più e quindi in realtà non puoi procreare, ma non è proprio vero fino in fondo, perché un Klinefelter è molto giovane perché sono aspermatici, non producono spermi, scusami, no no ho sbagliato, non producono spermatozoi, lo sperma c'è ma non ci sono spermatozoi, in realtà da molto giovane ci può essere qualche spermatozoi, quindi può capitare qualche gravidanza, ma di fatto non sono così. Non lo conoscevo questo problema. Eh, lo conoscevi, ma che succede poi? Che siccome un maschio non viene portato dall'urologo alla prima erezione o alla prima eiaculazione, mentre una femmina alla prima mestruazione viene portata dal ginecologo, l'uomo non ha nessun tipo di possibilità di capire che ha questa patologia fino a quando serve, quindi quando provano ad avere figlioli non ce li hanno. L'unica visita medica che esisteva, ora non esiste più per gli uomini, era la visita militare e adesso non c'è più neanche quella. Quindi che succede? Approciamo a questa storia, dice no ma sai cosa pensi? E dico guarda, posso scrivere questo romano, cioè ci provo. Abbiamo messo insieme due storie simili, sempre tratte da storie vere, ed è venuto fuori questo Nel nome del padre e della madre, che è stato un grosso successo, devo dire, perché è venuto fuori una roba veramente molto emozionante. Non so se ci puoi credere, ma non riesco, quando vado a rileggerlo, faccio fatica, certe volte mi devo fermare perché le lacrime sgorgano, glupiose, e veramente mi emoziona. Io ho avuto amici che mi hanno chiamato, che dice ma sei un vigliacco, mi hai fatto piangere per un mese, ecco. Ma non è tanto questo, è perché veramente è nato un romanzo molto intenso, ho trovato una casetrice che ce l'ha pubblicato, e ci ha seguito, che è il Castello di Foggia, ma la cosa interessante è che abbiamo girato Mesa Italia nelle università, perché ci invitavano, medici e quant'altro, perché è stato di fatto il primo romanzo al mondo che parlava di Klinefelter e che non fosse una rivista scientifica, cioè non fosse uno scritto scientifico, è un romanzo. Io sono sincero, non conoscevo l'esistenza di questa sindrome prima di sentirne, di parlarne oggi. Ma è poco conosciuta, non sono tantissimi, sono gravi le situazioni, perché molti Klinefelter, che hanno avuto figli, nipoti, hanno scoperto che i figli non erano loro nel tempo. C'è questa caratteristica. Io nel romanzo ho due prefazioni, nel nuovo romanzo sono ben quattro, io non mi faccio mancare niente, una di Ruggero Finaglia, cifrematico, psichiatra, molto bravo, una purtroppo, devo dire, è venuta a mancare, è un carissimo amico, era il professor Maio, era il mio urologo, il mio andrologo, che aveva accettato di scrivere questa cosa e ci ha seguito, siamo andati a Sorrento, perché la storia si svolge lì, quindi lì e a Vicenza, perché sono due cose, e ci ha seguito, poi è venuto a mancare, per un brutto male, mi è dispiaciuto molto, e mi diceva delle cose incredibili, mi dava dei dati pazzeschi, l'11% dei fratelli, non è dello stesso padre in Italia. Credimi, è la prima volta che lo sento. Sono situazioni veramente terrificanti. L'unica cosa che mi ricordo, era una storia che sembrava una barzelletta, ma non era una barzelletta, attenzione, che mi fu raccontato tanto tempo fa, però lì non c'entrava questa sindrome. Esatto. di una coppia che andò a fare le vacanze, no, chiedo scusa, il viaggio di nozze in territorio africano, e quando non ha quel primo figlio, non ha quelli colore. Sì, 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 ma tu devi pensare che ho avuto dei medici, dei quali ovviamente non posso fare il nome, che alla domanda, no, sì, ma perché trova strano che la madre abbia deciso poi di fare la fecondazione di sicilità? Ah, va bene, cosa cavolo è? Tanto la faceva, faceva il figlio con un altro, punto e basta, no? E infatti da questo romanzo viene fuori la famosa domanda, io lo faccio dire al personaggio, chi è più padre? Chi ti crea biologicamente o chi ti cresce fino al primo momento del tuo primo vagito, no? E infatti è lì perché, perché in quel periodo storico la persona non poteva avere fecondazione sinistratale perché era illegale fino al 2004, non so se ricordi, infatti noi siamo stati ospiti in Svizzera, in questa clinica fantastica dove una persona aveva avuto questa cosa, infatti era gasatissimo, il primario, questo parlava con l'accento tedesco, sembrava impressionante perché era anche un personaggio, ma di una simpatia incredibile e ci faceva i complimenti per questa cosa, cioè la prima volta che è un romanzo d'amore, poi in realtà perché si parla di amore, io amo l'amore, ecco ciò che mi ha modificato nella mia esistenza è stato anche quello, parlando appunto di balbuzie, ma il sentimento preponderante è proprio questo, il grande amore, e quindi questa cosa è seguita, e questo è stato il primo libro, sempre da... Una domanda, prima che mi dimentichi, questo libro è ancora disponibile? Non si riesce a trovare, perché purtroppo non si è riuscito a fare la seconda edizione, ma proverò, perché proprio ieri, posso dire il nome perché è una persona squisita, si chiama Antonio Blasotta, che è il titolare, il titolare di questa, lui scrive, è un editore, il titolare di questa casa editrice, ieri ha fatto gli anni, ieri o l'altro ieri mi ricordo, siamo sentiti, e proverò a chiedere se riusciamo a fare una seconda edizione, se fosse rispettibile, a rispettare, perché veramente è un romanzo, guarda, detto da me, è ovvio troppo di parte, ma veramente molto, molto, ti ripeto... No, no, già dalla parte che ha anche un requisito che secondo me è molto importante in generale per un libro, per un film, in questo caso per un romanzo, l'originalità, perché quando uno scrive, diciamo, a volte ho sentito dire anche a persone che hanno approfondito narratologia o anche la comunicazione a livello di film, di spettacoli, teatro, cioè alcune diciamo storie, usiamo questo termine, impropriamente sono un po' classici cliché, tanto per essere chiaro, cioè la ripetizione del classico schemino, però alla fine a volte capita anche a me sicuramente di guardare un film e a volte è successo anche con i libri veramente e dire andrà a finire così perché poi alla fine un po' poi ti accorgi. No, qui diciamo che c'è che c'è tutto un insieme di diciamo di elementi, di ingredienti, infatti ripeto io ho un carissimo amico dico solo il nome si chiama Diego che è un fratello insieme a qualcun altro che sono amici da ormai una vita che veramente mi ha preso una volta siamo visti in un bar ma piangevo con un bambino perché dici ma Rocco ma non puoi far finire ma davvero perché c'è un no assolutamente però dico tutto l'insieme proprio prende profondamente ma ripeto è detto da chi lo legge non voglio dire perché se no ripeto sarebbe troppo ascolta speriamo che ci sia questa seconda edizione guarda io guarda questo incontro con te non ci ho pensato l'altro giorno lo farò guarda anche proprio pungolato da un caro amico ti chiedo se possiamo rieditare questa cosa quindi cosa succede passano gli anni e un'altra amica che peraltro appunto si occupava di teatro e quant'altro mi ricontatta e parliamo e mi dice guarda devo parlare di una storia di qua di là e mi racconta una vicenda molto triste molto grave che è legata appunto alla violenza femminile rivolta alla sfera femminile specialmente nei ragazzi nei bambini e quant'altro io rimango un po' così ma a me era sembrato un po' fuori delle righe dico va bene perché parlava di questa sua amica diceva guarda questa amica che mi racconta della ragazza e vabbè dopo qualche tempo siamo risentiti e quant'altro guarda ho preso nota anche di alcune cose che volevo dirte che ho impiegato non moltissimo a comprendere che in realtà questa amica non esisteva ma era lei queste cose erano accadute a lei un classico esatto mi aveva dato un po' di indicazioni e quant'altro e ci siamo persi di vista per mille motivi la vita sai com'è il lavoro le cose e va bene io poi tutte queste cose i cassetti sono pieni come la tua bellissima libreria di sfondo sono pieni di cose che tu metti nel cassetto il famoso sai che ti tiene nel 2018 realizzo un medio metraggio io abito a Cittadella città murata città particolare in provincia di Padova che è stata dominata nel 1490 a fine inizio del 1500 e fine del 1400 da questa violante ventivoglio ma la testa che è una giovanissima donna come sai all'epoca si sposavano giovanissima 14enne che sposa appunto questo Pandolfo ma la testa chiamato il Pandolfaccio perché era cattivissimo era un bastardissimo incredibile lei è più nobile di lui lei è imparentata con i con i Visconti è imparentata con l'imperatore però è donna quindi però immagina lei scrive e legge e fa di conto cosa che all'epoca letteralmente è fantascienza se tu pensi che i papi e gli imperatori usavano il famoso anello papale perché non scrivevano dovevano solo erano capace di scrivere ecco e anche lì per gioco per schede ok abbiamo ho scritto questo questo sceneggiatore di questo il titolo è Violante ventivoglio ma la testa e il palazzo pretorio di Cittadella che cos'è il palazzo pretorio dove lei abitava evidentemente era il palazzo signorina e tra le attrici anzi l'attrice che faceva che ha fatto Violante ventivoglio è una bellissima ragazza Francesca Amodio di Telese Terme lei è nata qui ma i genitori sono campani lei ha partecipato ha fatto un bellissimo ruolo nel film parlando appunto di cinema della grande bellezza di Sorrentino e accetta questa cosa è molto fuori un messaggio anche qui presuntuoso bellissimo veramente lei è affascinantissima è sconvolgentemente identica alla all'affresco di questa ragazza abbiamo fatto fare lo stesso vestito e l'amministratore è un consigliere regionale che aveva supportato questo film è rimasto sbiancato perché la vista in scena non si era accorto che stava girando se l'ha guardata è rimasto sconvolto perché lui poi stava a studiare la sua storia è rimasto pietrificato ti giuro era sembra un'apparizione va bene riusciamo a portarlo a Venezia è stato presentato al Festival di Venezia allora che succede mi serviva un supporto come ben sai di ufficio stampa per poterlo divulgare andavamo a Venezia presentarlo e quant'altro e questa ragazza appunto Francesca Modio attraverso i genitori mi presenta Maria Grazia Porceddu che è una giornalista blogger bravissima di Teleseterme e cominciamo questa ci si dava del lei questa amicizia e ha accettato di fare da supporto è venuta a Venezia abbiamo fatto una cosa molto bella il salone che ci ospitava era stracolmo infatti il salone ho detto basta perché siete troppi e quindi arriviamo lì sono venuti amici attori c'era un carissimo amico che è il mago forest che è stato un mio animatore durante la mia carriera nei villaggi turistici ha presentato anche lui questa cosa e cominciamo questo rapporto bene passa il tempo l'anno dopo mi pare due anni fa o due anni dopo dice ma io scopro che Maria Grazia Porceddu ha anche che lavora per una casa editrice e ha una collana editoriale e lei mi chiama e dice Rocco ma tu non avevi io ne ho parlato un po' di me di questo famoso cassetto pieno di cose ma tu non avevi scritto sì dico Maria Grazia ho scritto una bozza una cinquantinaia di pagine di un libro ma poi l'ho lasciato stare purtroppo mille cose non sono riuscito senti mi fai leggere qualcosa vabbè e gli mando le famose quaranta quarenta pagine sai che si usano mandare agli editori così mi risponde dopo due giorni con devi finirlo finirlo a posto dico ma ma grazie e così è nato immagino viaggio all'inferno è cominciato questo viaggio all'inferno che da cinquanta pagine sono diventate trecentonovanta guarda adesso siccome tu hai detto tante cose adesso però la quarta di copertina la voglio leggere io così diciamo anche perché precisiamo dai sì sì assolutamente precisiamo una cosa essendo un genere noir non è che si possa dire sì è un noir quindi diciamo che ci limitiamo un po' alla trama abbiamo capito però com'è nato leggo proprio dalla quarta di copertina dopo quasi dieci anni dal precedente matrimonio miseramente fallito anche a seguito della nascita di sua figlia di sua figlia Beatrice Stefania incontra Gregorio nonostante qualche titubanza cede al corteggiamento di quest'uomo e lo sposa questo sarà per lei e la bambina l'inizio di un drammatico e terrificante viaggio all'inferno che è poi appunto anche il titolo del romanzo certo che le porterà alla totale distruzione coinvolgendo inevitabilmente tutti coloro che gravitano intorno alla loro vita ma qualcosa succederà ovviamente questo non lo diremo affinché entrambe in modo diverso intraprenderanno il difficile e doloroso viaggio di ritorno questo qualcosa lo scoprirà chi leggerà il libro naturalmente qui non lo diciamo assolutamente però insomma è una trama bella intensa diciamo cosa si può dire mettiamola così non c'è problema possiamo dire che si parla di violenza sulle donne sui minori nell'ambito parentale ricordiamo che ci sono delle statistiche che sono abberranti 18 milioni di bambini sono stati abusati nel 2022 18 milioni in Europa e migliaia non si contano più neanche le donne che hanno che ricevono e che subiscono violenza senza poi arrivare fino all'estrema alla morte che purtroppo come ben sai ecco quindi questo libro è veramente un viaggio all'inferno anche qui beh un libro premiato addirittura tre volte con tre importanti riconoscimenti internazionali l'ultimo è stato a Roma al Parlamento europeo ha vinto il premio della letteratura quindi mi sono trovato un po' spiazzato perché mai avrei immaginato nonostante il grande lavoro perché mi ha preso molto perché quando poi scrivo perché non ti ho detto che poi in due mesi l'ho concluso perché poi quando ho un obiettivo poi allora sì non è che scrivo per scherzo cioè nel senso ho tempo perdo tempo un attimo scrivo due cose no è stato un lavoro di otto dieci ore al giorno poi c'è stata una revisione come tu sai c'è una copertina che è un'opera d'arte non lo dico per dire chi l'ha costruita è questo secondo fratello che io ho un carissimo amico Antonio De Paoli che ha voluto disegnare una copertina e un'opera d'arte apposta per questo libro quindi c'è proprio un lavoro beh ci sono quattro prefazioni ma non a caso nessuno dei quattro aveva letto il romanzo come scelta mia e incredibilmente si sono incastrate in questa magia che è la magia dell'universo no quindi diciamo che l'ha scritta queste quattro prefazioni certo sì Ruggero Chinaglia un presidente cifrematico di un'associazione importante di psichiatri qui a carissimo amico di vecchia data che ha voluto scrivere delle cose molto belle Stefania Monica Bertoldi avvocato lei è un importante avvocato penalista di Treviso ma è anche magistrato onorario a Padova che ha scritto anche lei delle sue esperienze legate a queste a quello che lei vive come avvocato poi Maria Cicotta che è una dottoressa di Milano pediatra che sta facendo un grande lavoro sui ragazzi e poi beh una carissima amica che è Emanuela Tempesta la regista un vero importante regista Rai di cinema che ha lei si occupa di queste cose che ha voluto veramente mi ha chiesto lei io mai mi sarei permesso di chiederle di scrivere una cosa ha scritto una prefazione meravigliosa ed è veramente un libro importante ma non ripeto a parte quello che posso dire io che vale quanto può valere ma veramente arriva a un problema e mette un sacco di dubbi di domande al lettore io appunto chiedo quando facciamo le presentazioni ma perché non si riesce a fermare questo problema e quindi la gente rimane veramente scioccata che mi faccio anch'io molto spesso anche perché mettiamola così ferma di stato che non è mai giustificabile la violenza in nessuna epoca storica però magari forse in un certo senso è più diciamo semplice darsi una risposta quando uno pensa che so io 50-100 anni fa c'era un altro tipo di società una maggiore anche dipendenza a livello economico poi c'erano tutta una serie di tradizioni a cui si era fortemente legati però ecco oggi quei tempi che corrono forse mi riesce ancora più difficile ripeto senza mai comunque giustificarvi nessun caso è cultura è la cultura della violenza è la cultura della violenza la cultura della violenza della sopraffazione ancora del retaggio preistorico dell'uomo sulla donna la donna inferiore ci sono tanti aspetti ecco il romanzo riesce a mi hanno scritto delle cose guarda ti giuro che non ripeto adesso perché non è il caso ma che mi hanno fatto veramente venire a pelle d'oca cioè persone che hanno mi hanno intervistato in diverse televisioni dove gli stessi giornalisti sono rimasti dicono ma Rocco lei me l'ha fatto avere io pensavo sì vabbè poi lo leggerò io ho cominciato la mattina due giorni dopo ho finito senza fermarmi mai perché non si riesce a completare un libro magnetico quindi lo definirei che ti attrae proprio più che questo il dottor Vito Monaco che è di Canal Italia che mi ha voluto gentilmente ospite mi ha detto ma ecco sentino questo è un film questo deve farlo perché è già un film così e ho già la regista stiamo aspettando perché di avere trovato anche perché molto spesso è capitato che un libro sia venuto fuori o meglio abbia fatto ancora più successo dopo che è uscito il film da qui esattamente ho pensato che il libro tende non dico sempre però tendenzialmente è meglio io dico sempre meglio il libro del film senza dubbio lo è ma io scrivo ecco questa è la mia caratteristica io scrivo un po' come fossero quadri di sceneggiatura quindi il lettore si trova dentro che è la cosa più importante si trova dentro veramente cioè si trova a si immerge nella lettura sì e questa è la parte che a me piace molto e quindi lo scrivo come se fosse una sceneggiatura col vantaggio che non sei chiuso nella sceneggiatura ma puoi spaziare molto molto di più e quindi metto dentro me stesso evidentemente penso che posso dirlo tanto non spoileriamo niente questo Gregorio è sardo no? quindi ma vive in Italia c'è tutta una storia e io non 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 giudico nessuno nel romanzo non condanno nessuno ogni personaggio si assolve e si condanna da solo perché si lascia appunto al lettore una un percorso un viaggio dantesco lo è poi io faccio senza voler fare tanto lo spiritoso o il maestrino no? ma c'è un grosso riferimento quello che io amo molto che è la Divina Commedia o comunque sia c'è questo questo viaggio all'inferno no? perché poi in realtà c'è il purgatorio c'è il paradiso quindi c'è tutto un concetto c'è l'acqua ci sono gli elementi io amo molto ripeto come ti dicevo 397 non mi ricordo neanche quante sono mi sono sfuggite di mano a un certo punto erano doverose no? così come comincia così come finisce no? ecco quindi c'è questa voglia di dimostrare questo il contenuto di questo romanzo che è veramente molto importante perché vuole essere anche un progetto proprio legato a come una persona può riuscire nella sua nella grande difficoltà a tornare indietro tu hai letto la quarta di copertina hai fatto molto bene e si riesce volendo o cercando di capire cosa può accadere a ripercorrere un dolorosissimo viaggio di ritorno che però ecco ci costruisce un futuro completamente diverso e poi vabbè io qui metto dentro il fato come posso dire succede comunque come nell'antica Grecia il deus ex machina che scende e dice bene adesso io decido così ecco ognuno dei personaggi come chi leggerà potrà capire costruisce il suo destino attraverso che cosa quello ineluttabile essere nato qua invece che la essere nato su invece che giù perché questo non possiamo decidere noi ma il libero arbitrio ci deve essere e quindi uno deve poi scegliere che cosa farà della sua vita ecco perché appunto questo inferno che mette in moto un meccanismo quasi perverso ma che poi come uso dire non voglio concludere con questo ma nella medicina olistica si dice appunto che l'universo non ama il disequilibrio tutto deve tornare in equilibrio sempre e comunque purtroppo un terremoto nella sua disastrosità riporta tutto in equilibrio perché se è accaduto perché qualcosa era in disequilibrio ecco che in queste situazioni che sono terribili tutti i personaggi di questo nostro film di questo nostro romanzo di questo romanzo si incastrano clamorosamente benissimo e al proposito di conclusione concluderemo con una citazione però prima di concludere visto che penso che tanti che seguiranno spero molti questa nostra chiacchierata avranno poi voglia se già non l'hanno fatto chiaramente di acquistare il libro e leggerlo ecco appunto ricordiamo dove lo possono acquistare si trova in tutte le librerie ricordiamoci anche che la collana Belle Epoque , condotta da Maria Grazia Porcedo e Rosa Caruso al quale devo ancora mandare i miei ringraziamenti perché ovviamente loro hanno permesso questo scusa solo un secondo prego prego Pub.me è la casa editrice si può trovare in tutte le librerie basta ordinarlo e poi vabbè su tutti i siti quindi Amazon io dico sempre io mi permetto sempre di dare il consiglio di acquistare attraverso il canale delle librerie e anche se visto quello che c'è alle mie spalle io preferisco il formato cartaceo io la domanda la faccio sempre di questo libro esiste anche il formato elettronico l'ebook volendo sì c'è già ovviamente su Amazon troverete anche quello ma ripeto è è un bel falloppo che secondo me sta bene nella nostra libreria e che è che il libro per me è carta però io la domanda del ebook la faccio sempre perché no 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 ma è giustissimo ma esiste e beh viva Dio stiamo usando una una piattaforma quindi sarebbe sciocco far finta che non esistano le altre quindi no no c'è anche ovviamente i book come sempre però ecco ripeto l'importanza di avere in mano ripeto una copertina 300 guardate lo dico subito per essere pignoli 396 pagine sono un bel peso culturale quindi ecco è anche bello appunto come si vede alle mie spalle avere anche se questa purtroppo avere avere una libreria beato beato chi c'era io lavoro una libreria così però comunque è una bellissima immagine e allora concludiamo con questa citazione guarda allora io ho preso la citazione non è mia evidentemente ma è Simone de Beauvoir è una donna moglie di Sartre una più grande chi ha si dica si dice che abbia fondato il femminismo come come movimento in Europa si sta parlando è del secolo scorso quindi non è che è morta anche non tanto tanti anni fa e concludo dicendo questo proprio appunto cosa lei pensava ma mi sembrava corretto e bello metterlo nel nostro in questo libro e dice nessuno di fronte alle donne è più arrogante aggressivo e sdegnoso dell'uomo mal sicuro della propria virilità pensa quanto è attuale questa questa frase e quanto io l'ho ritenuta corretta e bella messa in questo romanzo proprio perché si mette in dubbio la propria esistenza appunto quando questa virilità non viene considerata tale ma viene usata in maniera sciocca e soprattutto quando non si ha la consapevolezza io ho smesso di balvettare con la consapevolezza e si può affrontare il mondo la vita l'esistenza con la consapevolezza unita a un minimo di intelligenza e a tanta se si può cultura proprio perché la violenza non paga mai entrambi i libri sono un inno all'amore te l'ho detto già l'altra volta poco fa che io amo l'amore e così come amo le donne ma veramente nella sua nella sua accezione più più universale più importante l'amore con la maiuscola che non ha valore non ha peso non ha prezzo soprattutto non è violento chi ti ama non decide condivido pienamente ricordiamolo sempre chi ama non non fa del male non ti fa del male non può far del male oltre alla violenza fisica a volte purtroppo si arriva anche alle estreme conseguenze lo sappiamo vediamo che c'è anche la violenza a livello psicologico la violenza la violenza è violenza esatto e chi ti ama non ti fa violenza né fisicamente ma perché è antitetico è paradossale è uno simono il ghiaccio caldo non può essere amore non può collegarsi con violenza non c'è è fine a se stesso è a se stanno assolutamente sì grazie Rocco Paolo è stato un vero piacere anzi un vero onore grazie grazie perché oltre ai libri abbiamo avuto occasione di parlare di tanti argomenti quindi ricordiamoci viaggio all'inferno disponibile tutte le librerie disponibile vabbè lo so che ci sono di portare online ma accidenti andate a librerie e comprate le librerie e poi concludo con una chicca se mi permette i miei lettori che si mettono in contatto con me amo sempre chiedere di mandarmi una foto mentre leggono il loro libro perché è un loro commento io poi le pubblico e ne ho messe tante molto molto belle sono simpatiche quindi è così è una sorta di di piacere estetico tutto qua bella iniziativa allora grazie Rocco grazie a tutti come sempre l'invito come ho detto all'inizio anche di questa nostra chiacchierata like al video iscrizione al canale per consentire a me e anche a chi ospito ormai abbastanza spesso devo dire con grande piacere aggiungo di poter crescere anche in termini di visibilità viviamo in un mondo che si basa sulla visibilità ci piace o non ci piace le cose state è così è così così come io bisogna prenderne atto tra virgolette e sarà a mia cura rimbalzare questa registrazione che spero assolutamente e beh guai guarda è notizia di poco fa che hanno accettato su Telesia TV da ieri e in tutte le metro metropolitane aeroporti italiani il libro e il mio romanzo stanno stanno mandando il book news sì perché il book trailer che passa sui canali video sulle metropolitane di diverse città ci sono stato anche io una volta esattamente e quindi siamo anche lì un bel canale pubblicitario grazie a tutti grazie ancora buona serata a tutti grazie ciao grazie ancora grazie a tutti